Buongiorno a tutti, siamo Gaia ed Ilaria di HG, siamo qua a Chicago per presentare la nostra prima collezione di filati. Abbiamo deciso di creare una nostra collezione poiché veniamo da Prato, quindi la tradizione tessile è molto molto importante e così ci siamo buttati in questa avventura, quale miglior posto se non iniziare con H&H. Abbiamo iniziato a Chicago perché il mercato americano è per noi il mercato più importante e il prossimo anno poi saremo anche a Colonia. Questo è il nostro piccolo stand dove potete vedere ci sono filati, fibre tinte, nastri, tessuti, noi facciamo tanti prodotti e pensiamo che questa fiera sia una fiera che ci potrà dare visibilità per tutte le nostre categorie merceologiche. Oggi è il secondo giorno, ieri è andata molto molto bene, si tutti hanno riconosciuto lo stile italiano, hanno detto finalmente qualcosa di diverso, quindi avanti tutti!